Se continua così, riusciremo ad arrivare a malapena a Natale. Questo si sono detti nella riunione operativa di stamattina a Pescara i rappresentanti delle marinerie pescaresi di San Benedetto del Tronto, di Ortone e Giulianova, che si sono riunite per fare il punto della situazione a poco più di un mese dal ritorno in mare dopo il fermo pesca. Si è discusso anche e soprattutto delle restrizioni alle zone in cui si può pescare dovute alle leggi dell'Unione Europea. Siamo oltre 100 imbarcazioni dei quattro porti costrette a lavorare in appena 510 miglia quadrate. Così, ha detto Mimmo Grosso, portavoce della marineria pescarese, e questo senza contare che le zone di mare sottoposte alla ricerca petrolifera per le trivellazioni sono scrutate da navi che con le loro strumentazioni andrebbero a creare problemi nei fondali allontanando i pesci. Il mare non si capisce dietro una scrivania. O non bisogna andare a scuola, a fare l'università per capire quello che è il mare. Il mare lo riesce a malapena a capire chi da generazioni ha a che fare con il mare. Troveremo una soluzione al problema, tutti quanti assieme marceremo verso un'unica direzione, chiederemo anche un risarcimento per il mangato, per la perdita che noi abbiamo avuto, tanto è vero che abbiamo delle statistiche di mercato del post fermo del 2014 e 2013, confrontate con queste del 2015, quindi è dimostrabile che noi abbiamo delle perdite. Noi chiederemo delle soluzioni adeguate, chiederemo un risarcimento adeguato, laddove si manifesterà un non scendere a patti, magari non accettare nulla, ecco qua che noi ci comincieremo ad organizzare per fare delle manifestazioni grandi. Qua non hanno tolto loro la fossa di Popo, hanno tolto la fossa di Popo più il fondaletto, hanno tolto 70 miglia di mare e un'altra 70 miglia di mare, cioè hanno tolto tutto il medio adriatico, cioè noi dovremmo pescare da 0 a 20 miglia e basta. Chi ha oltre la navigazione oltre le 40 miglia non ci può pescare, cioè poi hanno realizzato tutte le barche grandi che hanno la 40 miglia e dovremmo pescare dentro le 20 miglia, cioè a togliere il pesce alle barche più piccole.